Spazio letterario targato mattina 9 oggi presentiamo un libro che un po' ci porta a scrutare quelli che sono i meandri della nostra città tra luci ed ombre all'insegna di quella che è un po' una critica rispetto a quelli che sono anche gli avvenimenti sociali che la connotano. Ne parliamo con Carmine Zamprotta che è autore della città insensibile. Insensibile adesso vedremo nei confronti di cosa, di chi, ma certamente degli avvenimenti dell'attualità. Bentrovato Carmine. Buongiorno a voi. Allora se sei d'accordo comincerai dalla copertina. Abbiamo detto di rappresentare insieme dei chiaroscuri. Eccola qui in sovraimpressione. Abbiamo appunto uno dei vicoli di Napoli, credo sia il centro storico. Buio quasi totalmente esce fuori una luce che forse è la tua parola e questo libro è una critica verso quella che è la nostra contemporaneità, un'analisi anche. Sì, io parlo di insensibilità perché a differenza dell'indifferenza che ci porta a non notare certe cose, però comunque le persone sono portate a risolvere i problemi. Invece con l'insensibilità c'è il timore di non partecipare più, di non lottare. È un po' il simbolo di questa città. Una città che vive di un'iconografia particolare, il sole, la luna, i turisti. Però poi alla fine effettivamente viene a mancare qualcosa che ti dovrebbe portare ad emergere in situazioni di difficoltà. Sei un po' arrabbiato con i napoletani tu? No, arrabbiato. E che vorrei che ci si rendesse conto. Sei disilluso. Sei disilluso un po' però la speranza non si perde come in questa fotografia di copertina che oltretutto è di un ragazzo di Scampia, Franco Alcucci, un giovane fotografo amatoriale a dimostrazione che in periferia ci sono tantissimi talenti che però non riescono ad emergere perché questa città non ti offre la possibilità di poter andare avanti. Carmine, dici delle cose interessanti. Sicuramente ce ne sono altre rappresentate all'interno del libro. Cioè, quest'impegno per la nostra città, l'amore che naturalmente è sotto gli occhi di tutto il mondo credo, dei cittadini partenopei nei confronti della propria città. Un amore che però forse viene messo fuori in occasione di alcuni eventi. Penso agli eventi sportivi, artistici, culturali, però poi quando c'è da lottare veramente per un quartiere, magari si fa un passo indietro. C'è un po' di titubanza. Noi abbiamo una città che è scesa in piazza per la squadra di calcio quando c'è stata la famosa retrocessione in Serie C. Però poi abbiamo una città che è invasa dai rifiuti, però nessuno si muove. È come se si fosse abituati, non c'è più quella voglia di lottare. O forse c'è sconforto, perché non mi rifiuti veramente... C'è anche sconforto, però io cerco anche di... Alcuni paragrafi li ho dedicati anche a quelle che io definisco un po' le complicità. C'è un paragrafo che io dedico a un parcheggiatore abusivo. C'è un caso che è uscito sul giornale di uno smartphone che fu ritrovato in pieno centro storico. Per i numeri di telefoni che erano registrati, gli agenti della municipale cercarono di capire chi fosse questo professionista. Invece si presentò un disoccupato che dimostrò che il cellulare era suo e che lui era quel parcheggiatore abusivo che si poteva chiamare con un whatsapp. E la cosa brutta qual è? Che tutti quei nomi rappresentano, di questi professionisti, la complicità che esiste oggi in questa città. Cioè si parla tanto di risolvere i problemi, però praticamente poi si approfitta delle scorciatoie per poter ottenere qualcosa. Ma credi che sia una caratteristica soltanto di Napoli o in generale della collettività? Come esempio, però io guarda, partirei proprio da uno di questi vicoli che rappresenta, abbiamo detto, centro storico, eccetera. Ci sono dei quartieri virtuosi a Napoli. Penso al quartiere sanità, per esempio, dal punto di vista musicale, artistico, culturale. Sta insinuando una vera e propria rivoluzione all'interno della città. Quindi ci sono degli esempi, però il mood fa ancora un po' acqua. Quello che dispiace della sanità è che ci sono questi fermenti che sono positivi. Però poi nel momento in cui si abbassano le luci, alla sanità la sera si spara. Non si può passare con la moto o col casco. Quindi quei problemi che sono stati denunciati restano all'ordine del giorno. E' vero, ci sono questi fermenti, ma è ancora poco rispetto a quelle che sono le esigenze della città e del territorio. Politica, istituzioni, imprenditoria, ognuno dovrebbe fare la propria parte. Certamente. Chi non la fa, secondo te? Ma un po' tutti. Anche gli imprenditori, la cosiddetta società civile, che potremmo dire che è assente. A Napoli non c'è più... non si ragiona più. Io ricordo quel progetto della Napoli, mi ricordo, di Pomicino, dell'impossibile, una cosa del genere. Si cercò di portare avanti, indipendentemente dall'accettare o meno quel discorso politico, però si cercò di portare avanti un progetto. Oggi di progettualità non se ne parla più a Napoli. Eppure tu dedichi un capitolo ai ragazzi, ai giovani, la speranza naturalmente dell'intero paese, la speranza di tutti. Giovani che però non sono supportati, come dicevamo, dalla società civile, dalle istituzioni in genere, soprattutto dalla politica, credo. Sì, perché soprattutto i ragazzi vivono di volontariato. Tutto ciò che fanno è volontario, a titolo gratuito. O quasi. O quasi. A parte quelle grosse associazioni che vanno a speculare nelle periferie, che cercano di trovare delle posizioni di comodo, cercando di gestire, ad esempio, le attrezzature sportive. E non a titolo gratuito. Però i ragazzi ci sono, hanno voglia di fare, e la foto di questa copertina lo dimostra ampiamente. Camorra Sound è uno dei capitoli di rilievo di questo libro. Sì, è uno dei problemi fondamentali che oggi nella nostra città forse si tace, e non riguarda soltanto Napoli, ma tutto il meridione. E il problema dei neomelodici, e di recente anche sul giornale c'è stato qualche appunto del genere, di questi personaggi che comunque cantano le gesta della camorra. Certamente non sono positivi. Dovremmo smetterla di dare spazio agli eroi negativi. Fino ad oggi Napoli è stata sfruttata sotto questo aspetto. Sceneggiati, film, libri che hanno fatto cassetta, ma non hanno presentato la Napoli delle energie, della voglia di riscatto. Per concludere Carmine, Prigionieri di un mito, il primo capitolo di questo libro apri così, che cos'è il mito? È il mito di questa Napoli che vive di ricordi del passato, si parla tanto dei Borbone, delle bellezze naturali, tutte cose positive. Oggi cosa resta di questo mito? Oggi poco niente, c'è necessità e c'è anche voglia di recuperare, questo è importante, dare spazio ai giovani per arrivare a questo recupero. Un recupero che certamente parte dalla cultura, parte, speriamo, ce lo auguriamo tutti, soprattutto se lo augura questo programma con questo spazio letterario dai libri. Carmine Zamprotta ha cercato di tratteggiare quelle che sono un po' delle problematiche, ma anche dei punti di ristoro di questa città. Lo ha fatto attraverso l'iconografia, lo ha fatto attraverso le sue parole. La città insensibile. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Grazie.